Ciao ragazzi, io sono Enrico Pasquale Pratico a Butamotta San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino e quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex, che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna, sono un carino ragazzo, trovate a me su prozappo Enrico Pasquale Pratico, il mio numero lo do a Giovanni Zaccuri, così mi trovate voi e su prozappo Enrico Pasquale Pratico, ciao. La mia vita, sono qua, io cattavo la play session 3, ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo, voi che facete? Ciao ragazzi, io sono Enrico Pasquale Pratico a Butamotta San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino e quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex, che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna e sono un carino ragazzo, trovate a me su prozappo Enrico Pasquale Pratico, il mio numero lo do a Giovanni Zaccuri, così mi trovate voi e su prozappo Enrico Pasquale Pratico, ciao. La mia vita, sono qua, io cattavo la play session 3, ho il telefono Samsung Galaxy Grand Neo, e voi che facete? Ciao.